Per fare un purè coi fiocchi, Fanny sceglie solo le patate giuste, quelle sode a pasta gialla e le trasforma in soffici fiocchi per mantenerne intatte tutte le caratteristiche. Vedrai con Fanny che bel purè soffice soffice. Fanny purè coi fiocchi! Fanny, purè coi fiocchi. Fanny, specialista tedesca in patate, scelta da stare. Fanny purè coi fiocchi! Fanny purè coi fiocchi!